Ma che fine hanno fatto i profughi? A Vicenza ci sono tutti quelli sbarcati in questi anni, ma nell'ultimo mese di agosto gli arrivi si sono praticamente azzerati. Volete vedere che il codice di comportamento per le ONG che operano nel Mediterraneo, unito all'azione più incisiva della Guardia Costiera Libica, stanno funzionando? Infatti, nonostante la bella stagione e il mare piatto, il numero di migranti sbarcati in Italia sta subendo un brusco calo, una flessione che porta appunto beneficio anche a Vicenza. E tra i nostri telespettatori c'è chi ci scrive in redazione porgendo una domanda provocatoria. Finalmente il governo ha messo le regole, ma ci voleva tanto?